La Fidelis è la sua stagione da incubo che passa per tremende ingenuità ed una posizione in classifica tutt'altro che incoraggiante. La Fidelis è la necessità di tornare a respirare aria di serenità, seppur in un impegno ancora più complicato dopo la sconfitta casalinga beffa maturata contro il Gladiator. La Fidelis è un pizzico di fortuna che non guasterebbe, secondo il tecnico Giancarlo Favarin, che nel pregara contro il Casarano ha fatto un passo indietro analizzando quanto è accaduto domenica scorsa a Degli Olivi prima di proiettarsi verso la trasferta del Capozza. Siamo stati bravi, decisi, convinti, cattivi nei momenti in cui c'era da concludere e poi la beffa finale dimostra un po' il momento che noi si sta attraversando in questo periodo. E' chiaro che la prima volta che sono usciti dalla metà campo hanno fatto gol, forse non ci credevano neanche loro. Però diciamo che la squadra ha voglia di reagire, sta reagendo bene. Durante la settimana abbiamo analizzato cosa purtroppo non è andato, poco, però è stato sufficiente per perdere la partita. Adesso abbiamo una partita difficile sulla carta, però insomma sono convinto che noi possiamo andare là e provare a giocarci questa partita per fare un risultato importante. E tornerà a sedersi sulla panchina andriese dopo le due giornate di squalifica, scontate il tecnico toscano, che conosce bene la forza del Casarano dell'ex Dino Bitetto, ma pensa più alla sua squadra, che ha bisogno nuovamente di una scossa per cercare un acuto, che riporti certezze e tranquillità. Una squadra che ha un potenziale importante, una squadra che è partita con ambizioni di classifica. È chiaro che ci aspettiamo una partita molto difficile, però insomma sono fiducioso anche perché durante la settimana ho visto una squadra nostra che ha voglia di riscatto e questa è la cosa più importante. A disposizione del tecnico ci sarà praticamente tutta la rosa, compreso l'ultimo arrivo Mark Gulic, attaccante sloveno di 22 anni, che potrà già essere impiegato domenica. La società, con il responsabile dell'area tecnica Fabio Moscelli, resta vigile sul mercato. Non è al 100%, però è un giocatore a disposizione, secondo me è un giocatore che può darci una mano anche nel poco minutaggio che ha in questo momento. È chiaro che ci vuole un pochino di pazienza, però il ragazzo ha tutte le caratteristiche per poter darci una mano e mi auguro il prima possibile. Grazie. 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 Grazie.